Bates Corner Glossario minimo di psicologia Dico me disturbo borderline di personalità È un disturbo caratterizzato da repentini sbalzi di umore, instabilità emotiva e vulnerabilità nelle relazioni con gli altri. Questi elementi si amplificano a vicenda e generano una notevole sofferenza nell'individuo. Per instabilità emotiva si intende che queste persone possono oscillare rapidamente dalla serenità a un'intensa tristezza, dalla rabbia al senso di colpa. Questi sbalzi si scatenano spesso in seguito a dinamiche relazionali spiacevoli, come un rifiuto, una critica o una semplice disattenzione da parte degli altri. La reazione emotiva è immediata, marcata e dura di più rispetto a quella delle altre persone. Gestire le emozioni diventa difficile e per farlo chi soffre di disturbo borderline ricorre a comportamenti impulsivi come esplosione di rabbia, litigi violenti fino alla rissa, abuso di sostanze, abbuffate di cibo, gioco d'azzardo, promiscuità sessuale e spese sconsiderate. Possono anche manifestarsi atti autolesivi, come per esempio procurarsi dei tagli sul corpo con delle lamette o delle bruciature con dei mozziconi di sigaretta, ingerire dosi eccessive di psicofarmaci o tentativi di suicidio. Grazie. 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 Grazie.